L'open house è uno strumento di vendita importantissimo e innovativo, molto utilizzato in America ma ora anche in Europa e in Italia, che permette di vendere l'immobile al miglior prezzo del miglior tempo. Si tratta di una visita libera in cui è permesso a chiunque di poter visionare un immobile in vendita in un determinato orario e giorno. I prerequisiti di base perché l'open house abbia successo sono i seguiti. Preparare nel miglior modo l'immobile, fare un book fotografico e girare un video illustrativo, predisporre planimetrie colorate con ipotesi d'arredo per poter rappresentare al meglio gli spazi della casa. Preparare un testo dettagliato in cui vengono messe in evidenza la tipologia, l'ubicazione dell'edificio, la presenza di negozi, scuole, servizi, parchi, supermercati. Serve anche una descrizione dettagliata dell'immobile con metratura, piano, esposizione e luminosità e poi materiali utilizzati tipo serramenti, aria condizionata eccetera. Una volta raccolto tutta questa documentazione, se pronti a realizzare brochure e volantino, naturalmente bisogna promuovere l'open house anche su internet. Prima di tutto sul sito della Remax. L'85% delle persone che arriveranno all'open house lo farà grazie alla visibilità del nostro sito. Potranno essere privati che cercano case, agenti immobiliari Remax, immobiliaristi di altre agenzie. Il nostro è il miglior sito immobiliare oggi sul mercato. L'annuncio poi dovrà avere ben evidenziati la facciata dello stabile, la planimetria, il prezzo, il piano, l'indirizzo esatto, il giorno e l'orario dell'open house. Nel giorno dell'open house il potenziale cliente troverà un caricato, un cartello all'ingresso dello stabile per identificare chiaramente l'evento e l'orario visita. Un consulente Remax in ogni stanza, una brochure dettagliata. Gli agenti Remax presenti sul posto saranno formenti di tutta la documentazione necessaria per l'acquisto, dalle visure all'atto di provenienza fino alle spese di condominio. Il cliente così percepisce serenità e professionalità e viene immediatamente a conoscenza dei dati fondamentali per l'acquisto. L'open house quindi, casa aperta ma perché? Non solo un maggior numero di potenziali acquirenti in un'unica giornata, ma la presenza di tante persone interessate motiva il cliente e lo spinge a fissare al più presto un appuntamento per una proposta d'acquisto. Vendere casa con l'open house è più veloce.